Crisi del settore, proposte di rilancio ma anche elezione del nuovo direttivo. Questi i temi caldi del congresso regionale della Confesercenti che oggi si è tenuto a termoli. Al centro della discussione la grave crisi che ha investito il commercio e che in Molise ha portato solo nell'ultimo anno alla perdita di 3.000 posti di lavoro. In città il caso più eclatante è stato la chiusura del Carrefour con 55 dipendenti diretti licenziati e altri 30 dell'indotto che sono rimasti senza occupazione. Dal congresso è emersa la necessità di mettere in campo strategie per rilanciare il commercio. La crisi ormai è il problema che ci avvilisce continuamente e quindi lo teniamo sempre in considerazione. Vorremmo con questa nuova struttura, con questo nuovo direttivo, metterci a confronto con i politici e vedere seriamente di trovare un punto di incontro, un punto di ripartenza perché noi siamo disponibili a non abbandonare la rotta e quindi vogliamo continuare sulla linea costruttiva per gli imprenditori, quindi commercianti, artigiani, insomma il piccolo imprenditore ha bisogno insieme a noi di portare avanti un obiettivo e noi ce l'abbiamo. Che appello si può fare alle istituzioni? Le istituzioni devono soltanto starci vicino perché io credo che loro soli non sono in grado di trovare delle soluzioni e così noi da soli senza lavorare non riusciamo a trovare nessun tipo di soluzioni. Invece insieme credo che è il momento, è il momento da tempo che ci prodighiamo e siamo disponibili a un incontro serio e costruttivo.